questa scala c'è la casa come la sai la risposta Maria Grazia Maria Grazia e Limoni Maria Grazia guardando però questa scala come la sai la risposta Maria Grazia Maria Grazia e Limoni Maria Grazia guardando Alex guardando questa scala come la sai la risposta Maria Grazia Maria Grazia e Limoni buona sera putti buona sera putti ciao ragazzi ciao a tutti come state buona domenica come va come procede come è andata questa settimana allora vediamo vediamo un po' l'istante aspettate che qua ah ok ok perfetto ah ah Thomas Allora, allora ragazzi Saluti, subito saluti Innanzitutto Buonasera Erminia Bonico Sti da un talento Allora, allora Un attimo Bonico si sa un alert Sino non riesco a fare i saluti Allora, innanzitutto Buonasera Erminia Buonasera la nostra Eleonora Buonasera Mariano Buonasera Ele Buonasera Thomas Buonasera Marisol Buonasera Barbara Buonasera a tutti Come state? Spero che stiate bene Spero che la settimana Sia trascorsa bene Spero soprattutto ovviamente Che questa domenica Sia stata una buona Buona domenica Allora ragazzi Questa sera io Mi trovo A Springfield Perché? Perché sto nello schermo Dei nostri Simpsons Questa sera De Simpsons Ovviamente faremo una cosa Molto molto carina Ma prima di fare questo Io vi voglio introdurre lei Che l'avete ovviamente richiesta L'avete Desiderata E io ovviamente Ve la do Eccola qui Un grandissimo applauso Per la nostra Alessandra Sei scandalosamente tu Spregiudicatamente tu Cerchi un nuovo scoop Tu lo voglio di più Sono la vera scandalosa Ciao Buonetta 2020 Benvenuta Benvenuta Ciao carissima Come stai? Carissima Carissimo 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 Vedi che sei anche tu Nel televisore Mi vedo Mi vedo Sei anche tu Nella TV Io Stasera mi sono fatta Tipo questa cosa qua Per un po' Per ricordare i capelli di Marge Ovviamente non ce l'ho Come lei Però più o meno Vabbè lei ce l'ha Proprio sparadissimi Come stai? Sì Bene Si sente bassa Mi sente bassa Aspettate Vediamo se è colpa Allora Miki Grazie per il follow Miki Grazie mille Benvenuto Benvenuto Benvenut Grazie ancora Grazie 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 Prova Dicci qualcosa Prova 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 Ti sento bene La sentite meglio? La sentite meglio? Dai Ma io perché sono bassa Sono alta 1,58 Quindi è normale E allora Vabbè ma Si sente bene Si sente bene Beh la sentono bene Vai Vai con i saluti Ciao Antea Eh questa novità stasera Questa sera la facciamo doppia Ci senti male? Ok Lei Alessia si sente proprio male Benissimo Cominciamo benissimo direi Ok Aspetta Andiamo un po' Ora? Meglio? Ci senti bene? I nostri Marge e Omer Tu fai Marge ovviamente Perché la volevi fare tu Marge? Beh non so Volendo No tu fai Omer Scusami Dicono meglio Ciao Vero Ciao Thomas Io non ho salutato nessuno però Vai Vai con i saluti Vai con i saluti Ciao Orminia Ciao Picci Ciao Mariano Ciao Ele Ciao Thomas Ciao Marisol Ciao Barba Ciao Pupetta Ciao Ciao Antea Ciucciati il calzino Ah che carina Allora ma questa sera noi non siamo soli o sbaglio? No non siamo soli C'è sempre lei una presenza Ormai è diventata una presenza C'è presente Ma che ne so La presenza che a momenti si strozza Intanto presentiamolo Ciucciati il calzino Aio Ciucciati il calzino Aio Ciucciati il calzino Vai Ale Aio Ciucciati il calzino Fallo pure tu No no Io guarda i Simpsons Guarda io lo faccio perché a te piace Ma a me non è che Mi piacciono tanto Mi piacciono tanto i Simpsons Ma va bene Allora noi adesso introduciamo Che non so cosa stava succedendo Ma introduciamo No Pici non è Lisa Pici è Bart Eh sì è Bart Pici A parte che io al massimo Per la mia giovanità Posso essere Maggie Sì All'allera Eccola Riciccia questa Ciao Comunque ragazzi Sono sempre qui Di nuovo qui Di nuovo qui Ma meno male Meno male Meno male che c'è la nostra Leonora Come la chiamiamo noi La nostra Leonora Vedi Anche Thomas La mitica Pici Ma oggi capici Solo perché Dobbiamo fare una cosa Aio e Fede Sì Ah sì Se noi facciamo sta cosa Cioè qualcuno ci serve Cioè Qualcuno che ci aiuta Mi stavo dimenticando Della live Buonasera Buonasera la nostra Easy Brava la nostra Easy Approfittiamo nel dire Che Easy è diventata Ufficialmente un'altra Delle nostre moderatrici Eeeh Yeah Bienvenita Bienvenita in questa gabbia De Mattones De Mattones De Mattones E Leti Io spero che tu Non mi sognerai stanotte Sennò veramente un incubo De Mattones De Mattones Va solo nel televisore Di Homer Ma è suddiviso a metà Anche Proprio per voi Cioè nel senso Questa sera C'è una serata Simpson E cioè Io Builderò la casa Di Simpson E nel frattempo La mia Ale Ale Wanda Ale Ale Sexy Bomba Farai Simpson Quindi farà Homer Marge Maggie Lisa E Bart Esatto Ce ne sono altre No sì Ce ne sono solo No Che ne so Cioè piccolo aiutante Di Babbo Natale In realtà Usherò dei cicci Ma non ho la pelle gialla Quindi diciamo che Cercherò di avvicinarmi Un po' Va bene Va bene Ah vabbè Poi c'è il cane E un gatto Però vabbè Poi quelli vediamo Insomma Eventualmente Poi se è Ecco E allora Adesso noi andiamo In quest'altra Schermata Ciao Verdiana Tesoro Buona domenica L'unica cosa È che io avrò bisogno Di alcune immagini Ok Allora io intanto Vado nell'altra schermata Vabbè Eccoci qua Eccoci qua Come vedete Alessandra è già bella pronta Io adesso Me ne vado Nello scenario Che ho scelto Di andare a New Quest E lì mi sceglierò Un lotto Che non sia Né troppo grande Né troppo piccolo Per fare la casa dei sims Oggi ragazzi Ho passato il pomeriggio A guardarmi Su Da Pinterest Google E ho cercato De famme Non si vede Non si vedrà Né ora Né mai Vabbè Non si vede Ma c'ho tutto Tutto Carta canta qua Perché qui canta La casa Sono professionale Sono professionale Sono professionale Grazie 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 Allora io adesso Me ne vado Nell'altra schermata E me ne vado direttamente A New Quest Sì 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 Diciamo che Tu puoi anche già cominciare Io mi prendo Un 40x30 Dici che è troppo grande Un 30x30 È meglio Non lo so amore Dipende da Da quanto pensi Che sia grande Vabbè proviamo un po' Un 30x30 Dai magari forse Ci sta Ci può stare Vediamo Andiamo sul 30x30 Magari ci siamo Potrei farlo più giallo possibile Più collitero possibile Esatto Ma voi sapete Dov'è posizionata La casa Dei Simpson Al 742 Di Evergreen Terrace 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 Carina Carina La pavigliatura di Homer Non ce l'ho Quindi glielo lascio pelato Eh Ma è pelato Ah no C'hai tre C'hai tre Fregnetti in testa Allora io nel frattempo Comincio Parto Vado Allora Allora Intanto Easy Subito Comunque Fede Alewanda Si è arrabbiata Perché ha scoperto Che cosa abbiamo fatto In live Non mi sono arrabbiata Perché Sei menzoniera Mi sono arrabbiata Sei menzoniera Sementi rossa Sementi rossa Sementi rossa Sementi rossa Ma non c'erano le non sopracciglia Ah eccole Le non sopracciglia Mamma mia rega Cominciamo bene Premetto ragazzi Sarà una casa Da quello che Potete già un po' immaginare Molto rosa Molto molto rosa A me però Mi serve Una foto A me mi servono Le foto Che ho fatto oggi Perché altrimenti Sennò è un maciello E le riesci a mandammeli Da qualche parte Allora io intanto Mi posiziono La scala Ok Poi Mettiamo Subito Degli archi In modo che Così almeno Allora Poi 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 Allora Homer Ha il doppio mento Dice la vero Eh lo so rega Però non Pede mi raccomando Non farla enorme Ti dice Easy E poi Easy Ha detto anche Rivolto ad Ale Hai detto Con queste parole Ma come Il save file Dovete farlo da soli Beh Quello è poco Ma sicuro Ovvio Ovviamente E lei ha fatto Da sola Ha fatto da sola Ha fatto tutto da sola Oh Sì sì E io so fessa E coionata Ma questo non sapremo Mai Però insomma Mi auguro di no Mia cara Ma vabbè Ma per lui Che meraviglia Quattro Facciamo qua così Sì Allora sto cercando Un attimo Di 1 2 3 4 5 Allora 1 2 3 4 5 Ok Allora intanto Voi li guardate Simpsons Vi piacciono Perché io per esempio Perché io per esempio Li guardo adesso che sono un po' adulta Perché quando io ero No scusami Ale Non ti ho sentito proprio Scusami dimmi Mi potresti mandare delle immagini Su da qualche parte Perché io devo vedere Certo Certo Te le mando subito Cioè Perché Lui ha un viso un po' allungato Ma Un po' Allora Ti mando tutti Intanto ti mando lui Perché stai facendo lui 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 Sarebbe Homer Allora Te la metto su Whatsapp Ale Scandalosamente lui Ti manda Allora E anche Figura intera Così Ok Come faccio a fari fallo Vabbè Regà Immaginatevelo Ovviamente Beh ma certo Vabbè 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 Ma noi Noi viviamo di fantasia Dai Ale Allora Dunque Allora Lavero ti dice C'è nelle mandibole Una che simula il doppio mento Per quanto riguarda Homer Fede mio fratello che mi difende Li guardavo negli anni 90 Ecco Io per esempio Li volevo guardare Quando tornavo da scuola Ma Allora Ma nonna me lo vietava Non me li faceva vedere Perché giustamente Considerate che in realtà I simsons Sono I simsons sono Cambiati molto Nel senso Moltissimo Prima erano molto più Passate in termini Sboccati Molto più Poco per bambini Ecco Poi con Il passare del tempo Invece sono diventati Un po' più Politicamente corretti Ok Allora Sicuramente C'ha la parte Cioè La parte questa qua Più pronunciata Tipo così Allora Nel frattempo Sto cercando Di fare Allora A Barbara Piacciono Anche a me tantissimo Poi Thomas Sono cresciuto Con i simsons I griffin Vivi Zambath Ed Allora In realtà Però Io preferisco I simsons I griffin Perché I simsons Cioè Lui Homer Fa I casini Fa certi casini Ma li fa Perché è ingenuo Perché è un bonaccione Quindi lui Non li fa Però Eh No perché Lui c'ha 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 C'è Sopra pronunciato Però non lo posso Fa così Guarda quanto è Brutto Ma che è Vabbè Comunque Io non vedo niente Però C'ha Me viene da rire Cinque Uno Due Tre Quattro Però comunque Cioè La rende tantissimo L'idea Sì Ma che Non ho più Per niente Vabbè Le labbra Così Ma guarda qua Non me so pigna Per niente Allora La vera dice Che sembra un tonno Eh lo so Raga Fati voi Cioè a me M'hanno dato Stingrato compito Io poi non so Una che crea i sim Cioè No non posso vedere Perché se non Faccio un casino Vediamo Vediamo un attimo Non sei una creatrice Di sim Ma no Diventa una creatrice Di sim Anche tu Li faccio solo belli Quindi Eh quindi Ti piace vince facile A lei Li fa solo figli Allora Praticamente non ce l'ha Regà Cioè Ce l'ha tutto Molto indietro Così Cosa c'ho Però Aspettate Che io invece Sto cercando Di capire Come devo Fa sto Sto cercando Di ricordarmela Allora Thomas Labbra sottili Sembrerà più Homer E poi c'è Leti Che dice Io ricordo Quando ero piccina C'erano i Griffin E mutavo la sigla Quando faceva C'è solo sesso E violenza In tv È vero Anch'io lo facevo Quei cari Ibrei programmi Ormai non ci sono più Ormai non ci sono Che figli Ne hanno fatto I vecchi calori Anche Griffin Molto belli Solo che Peter è un po' Un po' cattivello Eh Peter Griffin Rispetto a Homer È molto più cattivo Sì Sì Homer è un bonaccione Fa Quello che fa Non pensando Senza secondi fini Senza cattiveria Sì è vero Peter Griffin È un po' cattivello È più Sì è più Questi occhi qua Sono molto grandi E vanno ridimensionati Però noi non li ridimensioniamo Li lasciamo Che occhi grandi che hai Che Molto a palla Sono per guardarti meglio Madonna Leonora Vediamo un po' Ma guarda che va benissimo Deve avere i labbroni Il nasone E gli occhi sporgenti Un mostro Infatti L'hai appena detto Diciamo che non è proprio Il simbolo di bellezza Allora Visto che qua si parla di Griffin E Simpson E per un sacco Anche in America C'è stata Questa divisione Adesso io vi faccio Un sondaggino E voglio sapere Se vi piacciono più I simpson o i Griffin Così Mamma mia Quanto gli piace Da fare sondaggi Allora Io sono nata per questo Lei è nata per sondaggiare Io faccio solo i sondaggi Io ho la velina dei sondaggi E' interessante Perché poi si capiscono Anche le varie personalità Guarda lui Chi? Ma no! Dai ve lo faccio di due minuti Così ci avete tempo Allora Il naso Il naso C'ha questo naso Che paura Che occhi Oh mamma Eh ma raga Omer Col puntino nero Col puntino Sì Cioè Non può inventarsi niente Di diverso Ah e me l'ho sbagliato Ho sbagliato il buco Il naso Io lo faccio a lungo così Ho sbagliato Ecco Infatti dicevo No Ho sbagliato Stanza Allora Allora Mettetevi d'accordo Labbra fine O labbra grosse Perché in realtà Lui c'è la fine Cioè Allora lui c'ha Le labbra fine E il nasino Un po' a patatina In realtà Lungo però a patatina Quindi io farei Le labbra sottili Comunque Cioè Il naso Io lo lascio così Cioè Sembra che abbia Le labbra grosse Perché intorno C'è la barba Ma in realtà Lui c'ha le labbra sottili Allora Mettiamo subito Delle luci Giusto per Grazie pupetta Che hai iniziato A seguirci Grazie mille Grazie Fini vanno bene Intanto vincono i Simpson Ma io un po' Me lo aspettavo Un pochino Allora forse Riusciremo per la prima volta Ad utilizzare una cucina Che mai avrei pensato Di utilizzare Nella mia vita Un colore Un colore Un colore Di una cucina Ma perché No Ma dove sono quelle Ah eccola Perché adesso Mettevano così Ah beh certo Ovvio In The Saint Trixie Da live cartonesca A live horror È un attimo Un attimo Sì sì Il passaggio è breve È brevissimo Siamo quasi Halloween Quindi noi ci prepariamo già Infatti Infatti Allora Piazziamo Le finestre Oh lo so Ma è Intanto tolgo questo Adatti ai Simpson Cioè per i fallo È parecchio complicato È difficile Infatti Sì 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 Non devo trovare Una barba che Tipo in colta Direi forse Una cosa così Io metto Ma è arrivata In questo modo Ciao nonna Buonasera Scala 1.2 Secondo me È questo biondo Un po' Io sto un po' È in ritardo Ma un biondo Un po' Aspetta Così O così Io la lascerai scura Più scura O più scura Ok Paraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapar Quando mi avete detto che avreste portato i Simpsons Io ho fatto un giretto su internet E ho cercato delle curiosità Un po' così per parlarne stasera La prima che mi è saltata all'occhio È che in realtà Krusty, il clown, all'inizio dello script Proprio ancora prima che i Simpsons uscissero Doveva essere l'identità segreta di Homer Ma infatti c'è una puntata In cui Homer va via di casa Una cosa del genere Dove lui peraltro Sembra Sembra proprio Krusty Solo che poi Inventeremo amici Prinda la fortuna Festeggia con noi Ok, io raga sto provando Speriamo che insomma venga decentemente Ciao Furoxia Ciao Furoxia, come stai? Buonasera Buonasera a tutti Buonasera a tutti quelli che Non ho salutato Abbiate pazienza Sto cercando di Che poi Sta cavolo de casa Ora Abbiamo un problema Perché io Mi sono studiato la piantina Però Il problema È che nella piantina Non Ciao Arianna Buonasera Arianna Benvenuta Buonasera Benvenuta Oddio Scusate Ah ok Ah ok Doppio tetto Ok Fino a qui Quindi bisogna Poi abbassare Perché ovviamente Non è che potremmo fare Un tetto Dei 600 metri quadri E poi c'è Un altro Tetto Qui Così È così Ma possibile? Allora Mattia Vi tengo in sottofondo Mattia giusto Ho azzeccato Non è che ho fatto una gaffe Sì Sì Vi tengo in sottofondo Mentre mi sistemo gli appunti Ok Perfetto Easy Madonna Stavo sclerando con le cuffie Le attaccavo Andavano e poi no Ora vi tengo in sottofondo Mentre lavoro a delle cosine Ok Buon lavoro Da bini Da bini Ah Siamo già a Monamour Io vorrei far Con Easy Vorrei far notare questo Io Da quando Parliamo Parliamo praticamente Tutto il giorno Su ogni social L'altro giorno L'altra sera Abbiamo aperto conversazioni Su tre social diversi Praticamente Ma dai Non avrei mai detto Non capita mai Che poi parlate Oh Sì Adesso ci siamo uniti Io Mariano Easy E via E adesso Non ce ne sarà più Per nessuno Vediamo un po' Per esempio Un'altra curiosità Sì Voi sapete Un episodio dura più o meno 20 minuti Diciamo no Dal quarto d'ora Al venti minuti Sì Teoricamente Sì Ma voi sapete in realtà Quanto ci si mette A creare un solo episodio Eh almeno qualche mese Esatto Sei mesi Sei mesi Sei mesi Beh perché comunque Adesso magari no Però prima erano tutti disegnati a mano Comunque i Simpsons Ci hanno più di 30 anni So dell'88 Non so proprio di primo pelo Ecco diciamo Ah Easy Qui c'è un po' di invidia Euforbia No 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 Lui è felicissimo Lui è felicissimo È il mio telefono Un po' meno Che sta sbroccando Con i vostri messaggi Però per il resto va benissimo Allora In The St. Rixi Ti dice così Il tetto è molto meglio E poi nonna Io dovrei mettermi a scrivere un racconto Scrivilo E noi rendiamo compagnia Adoro Mi piacciono quando scrivi di racconti Allora Allora Vediamo un po' Qui teoricamente Dovrebbe esserci un tetto Teoricamente Ma anche praticamente Ma anche praticamente Barbira Barbira Io i Simpsons Li ho studiati Alle superiori Ho fatto il liceo Di cinematografia A Roma E infatti Li apprezzo Da morire Barbira Barbira Ferma 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 Barbira Ma che hai fatto Roberto Rossellini Barbira Io purtroppo Non riesco a vedere la chat Dimmi solo Eleonora Leggi tu Sì ha detto sì Ma no Vabbè L'ho fatto pure io Raga Mio padre Ha fatto un sacco di cose In quella scuola Io ho fatto Roberto Rossellini L'istituto di cinematografia E televisione Che sta In via Deve vasche navale Subito Subito accanto Oh regà È vero Subito accanto All'ippodromo De Capannelle All'ippodromo De Capannelle Ma che è l'ippodromo De Capannelle Arcinò Arcosocinofilo Arcosocinofilo Lei che mi dà dietro Capito Lei che mi dà dietro Capito Sì All'ippodromo De Capannelle Sì Perché te volevo confondere Invece no Dove corono li cani Dove corono li cani Li cagnacci Al cinodromo Al cinodromo Al cinodromo Sì No vabbè Ma guardate che scoop Ma pensate E infatti Barbara ti dice No vabbè Ma che stai a dire Eh tu lo sto a dire Chessini Ma tu che hai fatto Allora Io ho scelto fotografia Poi Però con la riforma Sì Poi con la riforma Gelmini Avevo anche storia del cinema Ma tu che hai scelto Io ho fatto produzione Che ha la professoressa Guana Gallella Solo il nome è tutto Un programma Oh mio Dio Eh o se si chiamava così Poi rafiamo Che tocca No no La professoressa Guana Gallella Ragazzi Oddio La Gallella T'ha scritto Barbara Ah davvero La conosci Evidentemente La conosce No vabbè Non aspettava Un personaggio Regà Un personaggio Comunque mi fa molto ridere Questa cosa Che abbiamo fatto Tutti i cinema Perché io l'ho fatto All'università No vabbè Allora L'aspirazione di Homer Eh Qual è? Bere birra La mia C'è quella del vino Però C'è quella del vino Sennò la famiglia Aspettate A me mi serve Ma guardate Vedi che mondo Il mondo Quanto è piccolo Sì la famiglia Quella è più Marge Quella mi sa più De Marge Però Ci può stare Eh Marge è più genitoriale Lui invece è proprio Famiglia in generale Beh quindi Che gli do mette Questa del vino Creatore esperto Di Nettari Creature Maestro Maestro della mixologia Uno che beve Uno che beve Uno che beve Semplicemente Ma pure Della cucina Cioè gli piace pure Magna Sì sì anche Però io mi ricordo Tante puntate In cui lui comunque Si preoccupava Cioè si preoccupava Comunque lui è un buon padre Un po' goffo Ma è un buon padre Sì 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 Quindi che cazzo metto Eccola Quindi una grande famiglia felice Eh quindi che cazzo metto Eh sì ho capito Allora Barbira Li conoscevo tutti i professori Stavo impicciata con il doposcuola E quindi stavo sempre in giro Tu che anni hai frequentato Ma lui è vecchio Lui prima di te sicuramente Ma una capocciata come la vuoi Mo Così Su due piedi Ma questa Ma sta maledetta Che mi dice Marisotti dice che lui è ghiottone Quindi sì Ci sta Pubblicità Pubblicità Eh raga sì Ovvio abbonate con Prime Non so perché Ma mi sei aggiornato Questa cosa E mi sei rimesso Grazie Easy Easy grazie Quindi goffo Ghiottone E poi che altro Che dite sta avvenendo Sta avvenendo Pigro Allora Pigro Sì beh sì Beh mazza Homer sì Direi proprio di sì Allora Homer abbiamo fatto Fon March Oh ma Mi stai a dare una pista Io sto ancora a litigare Con sta casa Qua Guarda che per me è difficilissimo Mi mandi Marge Ele qualcosa Sì te lo stavo cercando Allora intanto Intanto aspettate Che comincio a colorare Le cose Scusate che io devo recuperare Le foto Allora Sicuramente C'aveva Questa specie De moquette Per terra Che è di un colore Tipo celestino Blu celestino Vediamo un po' Che esce fuori Ecco Tipo sì Una cosa del genere Comunque Ale Se ti può essere utile Marge ogni tanto Porta pure i capelli Sciolti giù Quindi magari Se non trovi Proprio un capello Simile Puoi metterle Un capello liscio Lungo Ok Vabbè Magari In un liscio Sto cercando di capire Eccola qua Ok Quindi Quindi Che cos'è Ma forse è più verdastra Non è Non è celeste È più verdastra Allora Non è cambiata la sim Regà Allora È cambiata Oh No forse è più bluast Perché è un celestino Vabbè regà Ovviamente Devo cercare Vabbè Anche se è più grande Sicuro i professori Erano quelli Probabilmente Sì Ci stanno da 100 milioni D'anni Il Renna Ola De Paulis Ma che stai a scherzare Ma certo che sì Chi conosco Venanzangeli Venanzano Sì 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 Mi ricordo Mi ricordo Regà Io ho frequentato Dal 2010 Al 2015 16 Io forse un po' prima Eh direi Comunque Bella Scusa Burro Beer Stasera Stai proprio a cercare Vabbè Ma Barbiera È del 96 Eh E quindi Eh sì Anche se tu fossi del 91 Per dire Tipo me E comunque Cioè L'anni sono quelli Non è che sei vecchio Però Lei è veramente giovane Non è che sei vecchio Lei è veramente giovane Io sento proprio Un famoso Arrampicarsi sugli specchi Ele non fare arrabbiare Fede No Ermi Non ti preoccupare Brava Erminia Brava Dillo amore di casa Dillo Dillo gioia Quindi quello non può succedere No no Ci sta Quindi i professori sono storici Stanno là dal paleozoico Esatto Praticamente Sì Praticamente sì Allora Le pareti sono rosa Tutto rosa qui Scusate Ho letto il commento di Isi Nessuno Quando Quando qualcuno parla È euforbia Sì 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 Nel senso che Fede dice sempre Sì 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 Spesso no E quindi Isi Lo prende in giro Per il fatto che lui Dice sempre Sì 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 Niente Stasera Proprio Lui è il nostro Lo prendiamo in giro Stasera Solo stasera Non succede mai Vero Beh È una cosa rara Un evento Un evento nuovo Che mi prendono in giro Una cosa che non succede Proprio mai mai È questa che è Acqua La sala da pranzo Teoricamente Sì Ok Sì Dovremmo più o meno Esserci Per cercare di capire Un attimo Ok Poi allora Qui c'è una porta Una porta Una porta che porta La porta Ok Qui c'è No Questa mi fa schifo Però Allora scusate Devo mostrare un messaggio Importante che Leonora non ha letto E mi ha schifato Manomette Isi Wow Euforbia Questo modo di fare i detti È stato spiegato nel mio corso Durante il terzo anno È vero Sono felice di vedere Che i miei 2150 euro Che hai speso Per partecipare al corso Del building Alla Isis Translations University Abbiano dato i suoi frutti Siamo orgogliosi di dirle Che lei È uno dei nostri allievi migliori Bravo Grazie Che tesoro Ammo Sei un tesoro Adoro La nostra Isi E comunque Sei andata pure bene Perché 2150 euro Niente Ma caccola Regà Niente proprio Due spicci Infatti Uno qua Uno qua Uno qua Uno qua 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 E qua Ok Ma comunque è complicato Non pensavo fosse così Complimagato Fai Simpson È zitto E Isi Pensa che Mariano Ne ha spesi 28.000 Sì vabbè Niente Vabbè ma lui ha sbagliato corso Lui ha sbagliato corso Cioè È proprio Fuori Mariano è fuori corso Mariano è fuori corso Proprio No dove stanno No dove stanno le orecchie piccole Lady Ma Il gioco completo Costa di più Guarda Effettivamente Se vai proprio a vedere Non è molto distante Dal corso di Sì sì Infatti Effettivamente Effettivamente Infatti ho guardato a casissimo Marge Ed ho avuto un jumpscare con quegli occhi Era pure super zoomato Che devo dire Io non Non so come Vabbè Ma qualcosa si inventamo Ma se gli metto tipo una cosa del genere La cucina La cucina Ma Ecco Domanda che non c'entra niente Avete per caso pubblicato da qualche parte Il link per partecipare con i sim Al gameplay stile beautiful Allora Non serve il link Serve solo un hashtag Che io adesso ti metto qua Che è questo qua E dovete solo creare i sim Un sim Due sim Una coppia Con figli Senza figli Come vi pare Un sim Due sim Tre sim Quattro sim Cinque sim Come volete Magari ecco Quello che potete fare Perché io li sto già creando Una piccola storiellina Così almeno Sappiamo Eh la cucina Sappiamo Ho perso Scusate ciò Un mix De foto Tra Senti Non mi parla per favore Perché io Sto minuto Cioè Io però Devo andare a fare Una roba prima Cioè Devo andare a vedere Il link giusto Il hashtag giusto L'ho fotografato L'ho fotografato Allora beige E non so che cavolo De colore è Madonna Colori tremendi Comunque Dei colori tremendissimi Allora La cucina Direttori di beautiful No 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 Assolutamente Loro saranno i Sullivan No 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 Allora Vi avviso già Mi faccio un po' di pubblicità Fede Ecco Che prossimamente nelle live ci sarà anche una anzi a volte capiterà che faremo anche una cast challenge e una cosa che voglio fare sono le sailor le guerriere sailor oh yes mi devi fare un sondaggio però io non so come farlo allora i capelli questi come gli dico fai 1, 2, 3 io sono un po' in ritardo ma loro lo vedono allora 1 2 2 3 a me forse i primi io raga sto cercando ti devo ritrovare no allora mamma mia sembramo tu matti e te no no lascia fa lascia fa lascia fa stelle lascia fa ti preoccupare che qua aspettate perché c'è un po' di cc ma pochi no giusto appena due appena due giusto quelli che servono 3 ok vediamo un po' allora il frigorifero mi pare che è verde ma un tanto finisco le mette ok mattona ragazzi 4 impegnativa proprio sta cucina no è troppo 5 fede la griglia l'ho tolta l'hai fatto il sondaggio si arriva da 5 io ok lo sto facendo partire ora allora vediamo un po' questa qua dov'è allora altrimenti potresti fare la versione di marge con i capelli lisci se non si trova ok voi intanto votate al sondaggio cioè non è che non ce l'ho quel cc però qualcosa che stia in su no che simuli ma certo l'iscia non la voglio voglio qualcosa ok facciamo così tanto metto il vestito oggi provo a trovare mille allora così allora vediamo 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 se abbiamo di rosa niente la morte proprio con rosa e anche noi l'avevamo trovato i capelli di marge ma non funzionano non se è quello che mandamelo per favore vediamo se è quello erano rotti eh non esistevano proprio più allora vediamo un po' che cos'è per esempio altra curiosità che io dico boh secondo me in america proprio tutte le rotelle a posto non ce l'hanno ma vabbè eh la voce di di omer è la voce più scaricata sui navigatori satellitari in america no vabbè amo follemente amo follemente ma è carina sta cosa no è carina certo però era perfetto se c'hanno le stalline però va bene eh forse è più questa la potrei mettere allora ha vinto l'uno ale quindi la prima acconciatura laggiù in fondo allora ok ok vediamo un po' se no è più arancionata è più forse è più arancione così fatemi rivedere scusate non sto a cercarvi qualcosa che cioè in realtà c'ha la struttura arancione ma i sportelli viola non ce l'ho quindi allora Marisol la voce di omer era di tonino accolla che però adesso è morto e ora è di massimo lopez la voce di omer potrei fare questa 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 così e ma quindi ma c'è stato un feedback sul fatto delle sailor Eleonora delle guerrierie no ho visto solo ok un ok e un wow che però non so se fosse per Marge o se fosse per la tua notizia per Marge non credo la versione americana non lo so Marisol ma adesso te lo cerco subito wow che cao non si è mai capito che cosa ci fosse da quest'altra parte però vabbè noi inventa invento faccio il vento faccio allora questi devono essere verdi oddio la donna raga ma come si fa vestito verde io ho questa allora la vero ti dice il vestito di al lavoro questo il frigorifero verde 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 eccolo questo qua ok poi raga una cosa ce la devo mettere scusami se sta chiudendo la cosa ok devo mettere qui la vero dice che wow era per le sailor le guerriere le guerriere sailor poi per rispondere a marisol il doppiatore originale di homer simpson è dan castellaneta scusa marisol quale di al lavoro perdonami perché ok è la vero la vero te l'aveva detto poi c'erano delle tendine gialle ok e anche arianna è d'accordo per le sailor perfetto e andiamo tutti quanti con le sailor le guerriere sailor sailor moon amica io le io amavo le sailor moon le sailor moon le cioè io da piccola giocavo ad essere sailor moon cioè me la so un po' mangiata ma allora poi metto questo anche se c'ha le spalline però diciamo che è quello che un po' gli si avvicina ok quello perché senza spalline a tubino così senza spalline non c'è niente vabbè però lo rende lo rende eh sì perché quello che gli si avvicina di più dove stanno sì mi sono perso le tende eccole potere della luna viene a me era potere del cristallo di luna marisol eh 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 marisol eh cazzarola marisol mannaggia marisol vabbè queste tendine mi fanno schifo però ti perdono meno male perché sei molto cara marisol marisol no dove sto andando sono passati anni scusate non lo so se ti perdono in realtà allora easy ha scritto sailor moon in giapponese eh amore io non lo so leggere mi dispiace non so leggere il giapponese cocome ok lasciamo questo vabbè poi dopo li abbasso Katul ma invece voi credete al fatto diciamo a quella leggenda metropolitana che dice che i Simpson prevedono il futuro ammazza vabbè morì ammazzato cioè addirittura addirittura c'era la scena di quando poi hanno eletto il presidente no il presidente americano sì che si è rivelata identica nella realtà quando hanno eletto Trump cioè micidiale micidiale pure quella che ci stanno Trump e non mi ricordo gli altri vicino a quella sfera tutti insieme sì mamma mia i brividi i brividi allora Marisol ti chiede l'acconciatura quale ha vinto questa ok quella che c'ha adesso e Easy dice che quelle tendine sono le sue preferite in realtà le usicchio anch'io quale tende che le ho levate quelle che c'erano prima ah ok eh sì io perché col fatto che siete divisi in due io devo vedervi da Twitch e quindi sto in ritardo sono divisi in due lei ce la siamo divisa in due la vero beh palese che hanno azzeccato dei fatti in maniera assurda i brividi no è vero poi abbiamo un tavolo 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 vediamo se riesco a trovare un elenco delle previsioni che hanno fatto i Simpson le previsioni del tempo vediamo allora allora vabbè mettiamoci le profezie eccole qua allora collana rosta lei c'ha la collana rosta raga però non c'ho così le perle perché lei c'ha una collana rossa io mi perdo mi sto a perdere pure l'agitazione mi sto a perdere pure i pezzi all'orecchio i pezzi all'orecchio sì sì lascia fa lascia fa non ti preoccupa sentite io metto questa di collana rossa perché quale non ce l'ho aspettate che metto qua perché devo cercare le sedie so arancioni adesso madonna mia creiamo Bart ma Bart sono gemelli giusto no Bart è più grande Bart è più grande e come simulo più grande adolescente no no vabbè hanno un paio di anni di differenza una fa la seconda uno fa la quarta quindi puoi lasciarli bambini sì 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 ti mando Bart e Lisa ok sì Bart prima poi abbiamo il io sto qui eh so cioccio calzino ai cioccio del calzino ai mi fa ridere perché mentre cercavo Bart la prima immagine di Bart che ho trovato devo mettere i tratti ok allora ho messo grandi linee queste cose qua poi qui adesso faccio la famosa stanza quella dei aspetta fatemi devo recuperare allora lei allora i tratti di di marge come la vedete a parte super genitrice allora lei è sicuramente buongustaia perché è una brava cuoca quindi forse buongustaia poi buona e fedele quante cavolo di finestre ci ho messo ok scusate ma io mi sto a cacciare l'occhio per cercare dei capi romantica ok che anche è vero allora allora marrone marrone mi serve un divano marrone un divano amante della famiglia questo amante della famiglia questo tutta la vita questo 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 andiamo andiamo da bar no troppo eh mo te voglio pigli i capelli vabbè capelli a spazzola guarda stringiamo di uno no stringiamo di uno dio ma mo i bambini ce l'hanno quello senza sopracciglia diciamo così ok così poi il televisore questo regà che peraltro anche funziona allora mattia ricordiamo che marge stava avendo una tresca con flanders è vero oddio è vero è vero perché comunque flanders sotto quel tesorino com'era vicino vicinino vicinetto non ho messo vicino così c'ha una tartaruga regà flanders che non ve lo dico è tartarugoso è tartarugoso non ci sono per i bambini non c'è il senza sopracciglia metti qualcosa di molto sottile 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 proprio è vero ho messo allora allora che risponde a furoxia flanders incarna l'uomo responsabile che omer non è sarà anche per quello può essere la vero perdonatemi posso fare qui una domanda per il save vai scusate potete litigare un po' più in là voi qua sotto grazie ok perfetto ottimo allora io nel frattempo cerco di ah c'è un pianoforte blu questo mobile quando va via c'è un pianoforte blu qua che devo mettere qui allora aspetta pianoforte piano o forte dio che brutta è pianoforte famiglia tantissimo ecco ovviamente c'è apposta l'unico pianoforte blu c'ha i pesci sopra quest'altro c'ha questo mannaggia i pescetti sembra sembra un alieno marge la vero il lotto 6 va raso al suolo e rifatto o ristrutturato no va proprio rifatto è la casa dei fire è il lottone 64x64 va fatto però mi raccomando date un'occhiata dai un'occhiata alla famiglia per capire più o meno la personalità poi mi serve alessato però madonna ma chi è che aveva fatto i sims devo mettere un divano rosso e una portrona verde ma lo stile tudor dentro com'è legnoso semplicemente legnoso guarda puoi fare una cosa per lo stile tudor eventualmente ricordate sempre che se fate una casa a più piani la parte sotto tendenzialmente tende a essere sempre di mattoni poi la parte sopra più legnosa c'è proprio quella di usciamo insieme se non vado errato che è perfetta come sì vabbè l'importante è che rispettate più di così ai bambini non gli si cosano le pupille e vabbè non gli si dilatano le pupille no non gli si non gli si ristringono il divano è un divano classico un divano che era un divano così facciamo pinta che è un divano così ecco così e poi c'è una portrona verde mi serve madonna c'è veramente altro che chi i colori stiamo a giocare comunque sembrano i miei sembrano degli alieni che carino Bart ti dice la vero ma quale carino sembrano alieni qua la dovrebbe dei casi a spazzola dei capelli a spazzola ci dovrebbero stare se non sbaglio eccola 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 c'è pure porto una verde oddio no allora verdiana quali sono i trucchi per buttare il bicchiere che sta sopra la panchina allora dipende perché puoi anche solo semplicemente se sta nel tuo lotto la cancelli o vai in modalità compri e costruisci e lo elimini e no lo trascini col mouse ci clicchi sopra e lo trascini io nel frattempo devo cercare di capire un musino dolce ha detto la vero non dovrebbe non dovrebbe in realtà in realtà dovrebbe essere un infame esatto ma perché mi sbocano le caprese ah ecco perché beve giusto lo sai che non ho messo a marge le ciglia le ciglia le ciglia ah sì sì ciglia ciglia mamma mia allora ho dato un'occhiata alle varie profezie diciamo eh e nella stagione sei quindi diciamo nei primi anni novanta così lisa si sposa e gli invitati partecipano alla cerimonia con facetime no vabbè ma dai sì 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 ecco o anche l'apple watch tipo nella stagione 10 così si vede uno che parla un orologio intelligente eh vedi dove sta l'angoliera sappiamo che c'era un'angoliera vero in altre decorazioni sta in decorazioni aspetta no però mi sa che non è un angolo aspetta che non riesca a vedere che cos'è ah una libreria è una libreria una libreria gialla madonna raga ma come si fa adesso ho da denuncia questi allora una libreria i capelli devo cambiare non mi piacciono così a me se no per usare i trucchi guarda il trucco dei trucchi è questo te lo scrivo qua il trucco dei trucchi il trucco dei trucchi è questo il trucco dei trucchi è questo no vabbè non cambiano il colore aspetta poi aspetta aspetta questo deve andare leggermente un po' più qua e questo leggermente un po' più qua perché ci sta qua dietro una che cos'è ti posso mettere questi raga una scrivania una scrivania oh in the sand trick sì un tripudio di colori che nella vita reale non abbineremo mai no ma soprattutto che io non utilizzerei mai proprio raga cioè allora mi serve la moquette blu no veramente il divano rosso pure pure ma la moquette blu allora i capelli questi o no questi no allora Marisol ti dice questi vanno meglio io ora sono un po' in ritardo quindi sì credo questi vediamo vediamo i primi ma in generale la moquette un no sì sono d'accordo i primi quali sono questi ora definiamo i primi definiamo i primi i ricci forse allora quelli ricci alti o questi così quelli afro ricci dicono ok poi sai che casino la moquette con un cane e un gatto stavo dicendo proprio quello la moquette è un ricettacolo di microbi praticamente di sporco di sporco niente l'unica cosa che esce posso mettere questa amen ciccia e c'ha una sedia rossa madonna ma come c'ha una sedia rossa un tributio dei colori proprio un tributio dei colori una sedia rossa una sedia rossa poi com'è sta sedia vedi un attimo è pure una sedia sì giusto verdi testing cheats on o true quello che vuoi funziona con entrambi no c'è qualcosa che non va raga dici non mi fa modificare il bambino ma com'è che non mi si modifica vedi che sparisce una cosa qui che cosa c'è non mi fa diminuire la pancia poi considerate che hanno due comodini verdi no due comodini viola con sopra delle lampade rosse e una console rossa ma che siamo impazziti allora una console rossa che non esiste non c'è allora fammo i comodini come erano viola no che so sì viola colore preferito della nostra easy bella questa curiosità praticamente voi lo sapete perché Lisa è vegetariana no no allora all'inizio non doveva essere vegetariana però Paul McCartney e la moglie hanno prestato le loro voci ai personaggi in un episodio a condizione che poi però per tutta la durata dei Simpsons e quindi da quella stagione in avanti Lisa fosse vegetariana diventasse vegetariana e rimanesse vegetariana quindi è stato un ricatto di Paul McCartney praticamente capisci niente ma ma pensa te ma tu pensa hai capito Paul Paul hai capito Paul hai capito il Paul hai capito il McCartney il McCartney questa è carina sì perché io nel frattempo ho cercato curiosità perché io amo i Simpsons le chicche leggo proprio testualmente da grazia.it tra le chicche curiose più adorabili c'è quella che riguarda Veronique Egero e Philippe Pitot i doppiatori di Marge e Homer nella versione francese dello show nel 2001 dopo anni e anni doppiaggio coniugale sono convolati a nozze anche nella realtà ma dai che carino che carina sta cosa mi metto questo allora qui c'era qui ci dovrebbe essere vero 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 gioco di parole sorry carini vero vero la nostra vero 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 tutto vero la nostra sarà vero qua queste vai allora allora vediamo se allora furoxia quindi per trovare il vero amore dobbiamo iscriverci ad un corso di doppiaggio possiamo provare volendo no volendo si potrebbe fa chi ce lo nega d'altronde scusa vero era un gioco di parole non voluto me lo facevano sempre a scuola scusami non l'ho fatto apposta cresciamo insieme sì perché io ho fatto è vero vero no ma non ci ho pensato e lei mi ha detto che glielo facevano sempre a scuola però non era voluto cioè non era una presa in giro voluta scusami dovrebbe esserci nel debug la la casa sull'albero già fatta giusto ma che cazzo scusate no la casa sull'albero va sempre fatta non c'è già montata non c'è proprio siete sicuri non è che non lo so controlla ma secondo me c'ha un folotto qualcuno me lo sa dire mostra tutto eccola sì ci sta eccola eccola vedi ah no ci stanno i pezzi ci stanno i pezzi vabbè allora mi chiamo Bart Simpsons Simpsons vabbè e allora lui lui come è Bart è tremendo è disgraziato è è un monello è lo capitano dello svago il Sim adora andare in cerca di giochi attivi con gli amici eh sì questo è carino perché sennò c'è motoria mentale creatività sociale invece questo è molto carino animale da festa in pigiama eh sì anche questo eh allora allora aspettate allora o animale da festa in pigiama il Sim vuole essere anima della festa in modo creativo e originale oppure capitano dello svago il Sim adora andare in cerca di giochi attivi con gli amici eh eh bella prova bella domanda uno è due fa il sondaggio due animali da festa in pigiama allora abbiamo provato qui così allora faccio il sondaggio anche se quale risposte arrivano scegliete quale ok aspira comunque l'anteprima questa sembra sembra già Lisa comunque mi dici per favore le aspirazioni anziché un e due capitano dello svago e animale da festa in pigiama ok grazie prego io ormai velina dei sondaggi invece chiamano due paesi fantastica fantastica vabbè pigiama non me lo scrive tutto non ci sta c'è pigia animale da festa in pigia in pigia non ci sta purtroppo animale da festa in pigia per l'amici per l'amici e pigia 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 tutto pigia tutto non mi ricordo teoricamente in realtà la macchina è rosa ma non c'è la macchina rosa quindi mettiamoci questa ecco così qua così qui dovrebbe la sala da pranzo sala da pranzo aspettate che prendo la foto della sala da pranzo questa cosa è spaventosa il fatto che adesso mi sono venuti brevi di solo a leggerla i simpson avevano predetto anche la questione del sottomarino ma dai l'ho letto pochi giorni fa sì tant'è che è vero c'è la puntata in cui Omer va giù col sottomarino e sì rimane bloccato sì ma il sottomarino quello dei turisti di Ocean's Gate sì 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 infatti c'è anche la questione delle previsioni cioè delle profezie del 2024 ma non le voglio leggere perché non si sa mai non le leggiamo quelle no sorvoliamo sorvoliamo chiamatemi pigia chiamatemi pigia chiamatemi pigi però a mia discolpa dico che non mi ci stava per gli amici pgp no che leggere no 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 barbira non le leggiamo perché è vero mattia sì è vero anche il covid ciao tattino ciao tatti ciao tatti come stai allora ha vinto sta vincendo capitano dello svago ok ok poi sedie arancioni buffo lui buffo buffo si testa calda comunque tutta roba si beh testa calda e no solo uno gliene possiamo mettere quindi o testa calda o buffo faccio altro sondaggio aspetta oppure aspetta guardo avventuroso lui è avventura nella giungla e aspetta questo qua e questo perfido no perfido no allora poi ciao allora non lo so vabbè lascio testa calda ok allora poi andiamo sul viola allora in the sand trick sì il mondo dei simpson dal punto di vista delle profezie è assurdo perché anche se vuoi pensare alla frase è solo una casualità con alcuni eventi non puoi proprio farlo sì ma in realtà con tutti con tutti è assurdo ma addirittura ma poi poi può capitare una volta due ma insomma per farcene vestirà c'è una cosa vuol dire che c'è tanta adesso che ne so lasciamo le cose tecnologiche tipo le video chat quello comunque cioè vabbè era una cosa che è un po' come quando dici sì cioè comunque la tecnologia va avanti quindi per quanto riguarda la tecnologia è facile prevedere più o meno però ecco Trump il covid il covid è tremendo il covid è tremendo cioè è assurdo ma lo sai anche cosa è spaventoso proprio le immagini le immagini perché sono pare pare alla realtà sì alla realtà e magari sono successe che ne so vent'anni prima sì cioè non si aspettavano proprio che fosse ma che cos'è ma dove è sta frutta e verdura qua ma da dove esce fuori vabbè per esempio voi vedendo un po' più o meno i personaggi chi cioè chi sareste nei Simpsons in chi vi medesimate di più non per forza solo la famiglia anche i secondari lisa la vero lisa ok io mi sono fatta da sola una domanda difficile non so rispondere ecco apposta nella serie fatti una domanda e datti una risposta a Marzullo mi sento Marzullo lei è molto marzulliana la pazza con i gatti ma lo sai che mi sa che pure io Alessia no tu senza gatti però solo la pazza solo la pazza i gani no no senza manco quelli solo la pazza Alessandra Tattino c'è Ale che sta creando i Sim sono io Tattino lei Tattino che non la senti come è felice Barbara è un po' marge ok mi lascio questo perché c'è motivatemi la risposta per favore sto curiosa addirittura pura motivazione vuole certo io non potrei mai fare la professoressa perché sarei proprio una stronzetta allora motivatemi adesso su mi raccomando devono essere delle motivazioni che mi soddisfano altrimenti a tutti quanti beccate tre ve lo dico due 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 quale tre tre è il numero perfetto due per come ama anche sbagliando guarda Barbara lasciamo stare sto d'accordo con te forse anche un po' marge un po' pazza un po' marge tattino il commissario winchester allora marge ok allora indesantrixie maggie sono sempre stata lei da neonata perché avevo un ciuccio bucato che non volevo buttare lo facevo lo stesso identico rumore di quello di maggie mio cugino nonostante 28 anni mi chiama ancora maggie carino è carina sta cosa furoxia io cioè io parlando di me sarebbe la classica prof che ti risponde e perché ha tua risposta del tutto esatta sì è vero e perché però sarei sarei anche molto vicina agli studenti però tocca vedere se loro vanno a stare vicino a te è certo ovviamente ecco ok perfetto la vero per l'amore per la musica e per la sua sensibilità ok Elisa brava mi piace tu Fede io io disco stu non sto scherzando lo so non ne ho la più pallida idea no raga non lo se levano i vestiti ma che succede non c'era niente ok io in realtà non ne ho la più pallida idea mi devo ricordare per altri personaggi che non mi ricordo eh tu chi potresti essere non lo so chi potrei essere tu sei coso sei ti chiamo ma quello cattivo no quello cattivo no ragazzi proprio Mr. Barts ok oddio non mi so mi so perso aspettate qua c'è qualcosa che non che colore so so celestico allora sono celesti ci sono i comodini che sono celesti con i cassetti beige noi qui abbiamo il cassetto beige e con i comodini celesti metteci quello ne vogliamo parlare ma si no metteci quello io pure per esempio i vestiti mica c'ho uguali mo gli metterò qualcosa che un po' gli assomia cioè nel senso che che magari ci vediamo capito cioè tipo pure una cosa del genere chi è aspetta che non vedo non vedo non vedo un attimo un attimo un attimo fatemi vedere grazie indecente Trixie grazie grazie mille tesoro allora facciamo così leviamo questo questa che cos'è gioco base quindi teoricamente gioco base ci dovrei ce lo dovrei avere ecco qua infatti si ce l'ho ecco qua qua e qua il letto capirai guarda che cazzarola del letto cioè il letto è tipo rosa viola cioè veramente cioè io che ho dei colori già prefissati nella mia mente oggi proprio gli occhi mi stanno sanguinando ragazzi cioè senti ma chi metta lei questo forse proviamo senza cc è veramente di una fatica no lasciamo perdere la lascia fa un kaiser di letto questo l'unico ci posso mettere questo che c'ha testi eh forse un po' sì poi aspetta secondo me è questa ah e poi c'ha tipo la toletta quella per la toletta sta negli specchi vero sì qua tipo qua così così sì donna mia ah qui c'è il famoso armadio ma gli armadi a muro po 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 oddio dove stanno oddio che cosa che ansia proprio posso dire sì sì sapessi io n'ansia ecco sapete che io faccio proprio così oddio le scarpe così simula un po' armadi a muro che poi mi pare che non ah no ce sta mi sto a impiccare perché tutta sta fatica quando ce sta cioè voglio dire ce sta ce sta poi vabbè magari sto cercando delle notizie sui simson e mi compaiono delle foto che mi fanno troppo ridere perché io sono una persona semplice se prima non guardo una persona semplice con un umorismo semplice lei è semplice no nel mio essere in questo in questo in questa cosa perché io prima guardo un episodio dei simson e poi vado a dormire e lo faccio da vent'anni praticamente mo capisco tante cose e Alessandro mo capisco tante cose allora io semplice nella vita no però in questo sì in questo sì lisa è mentale sì è amante della musica anche aspetta oppure mente e corpo no secondo me è più mentale solo mente no mente il sim vuole padrongiare sia la propria mente che il proprio corpo oppure genio creativo il sim vuole sviluppare le proprie abilità mentali e creative per ispirare gioco e innovazione secondo me questo è lei sì è lei è amante della musica amante della musica blu scufa in the sense Trixie perché stai ridendo cioè mi stai forse dicendo che non sono una persona semplice io sono semplicissima guarda che più semplice si muore proprio infatti genio creativo ti dice Marisol ok come così e quello ho messo poi c'ha la scrivania rossa madonna non risponde il mio gioco si sta rifiutando il tuo gioco no quando gioco con la genetica con i cc è un casino il gioco si sta rifiutando allora ovviamente facciamo un lattante Maggie c'è la rossa questa sì c'era fatemi vedere sì è tipo marrone marrone e rossa sì con la sedia mi mandi Maggie sì come dicevamo l'altra volta la nostra Pitchi potrebbe essere una delle gemelle Patti o Selma sorelle di Marce sicuro sicuro approvo in pieno sì sì approvo comunque io da queste live ne esco sempre peggio prima di diventare vostra moderatrice avevo una reputazione ero una brava persona avevi una reputazione ma davvero poi adesso sono diventata vecchia ubriacona buciarda buciarda poi dov'è il clown che mi mette l'ansia quel quadro giuro è nel gioco base eccolo madonna che ansia no ma io ti credo il problema sorge nel vedere i simpson prima di andare a dormire non oso immaginare i sogni che ne potrebbero derivare ma quindi anche senza simpson perché sono scema il problema non sono i simpson il problema è la mia mente c'ho pure il ciuccio ecco capito bene allora mi servono comodini celesti no che poi vorrei far notare una cosa in the sims c'è blu blu poi c'è marrone chiaro e marrone scuro capito però il blu ce n'è uno solo devo essere polemico però dai semplice scema è anche nella mia descrizione hai visto anime proprio anime affini sì ok poi di che colore so le tende gialle è calda ora ovviamente non ci sono i capelli di Maggie ecco in the sims trick sì questa cosa è molto molto bella mi ha dato proprio uno spunto di riflessione no quindi vi faccio una domanda a tutti non c'entra quei simson però mi è balenata in testa quindi adesso ve la faccio gli è balenata in testa in testa perché capito i miei neuroni hanno fatto contatto non so gliciati funzionano quindi adesso hanno funzionato non so per quanto quindi ne approfitto se tutti ecco una domanda per tutti se doveste descrivervi con tre parole sole cuore amore o a parte sole cuore amore ah no non va bene sono quello si va bene lo sto cercando sei il nostro sole sei nel nostro cuore sei il nostro amore Federico ecco sto cercando di recuperare delle immagini ok 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 ma guardate sì che roba oh ci sta diventare cieco questo che cos'è qua cosa c'ha ah ok lui qui c'ha pure un mobile basso dello stesso colore blu della ecco nient'altro quindi devo mettere dove è giallo ritogliamo il giallo rimettiamo il blu levar giallo mettere blu mettere blu levar giallo allora le tre parole di easy absurdly evil and amazing yep amazing 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 yes la mia e le mie sono bellissima intelligente ma chi è due bellissima intelligente e colta ma c'è il coraggio il coraggio mi vuol forse dire che sono brutta Federico no non ho mai detto questo anzi però voglio dire intelligente com'era poi intelligente e colta e corta colta non corta corta no sono alta abbastanza sono alta io Federico sei alta te lo può dire Alessandra sono alta sono alta non altissima ma alta purissima allora la vero le mie empatica creativa e solare belle mi piacciono leti troppo disponibile sensibile e gioiosa mi piacciono pure le due belle io ci devo pensare perché ce n'ho troppe potrei partire da psicopatica allora per arrivare a volete le mie volete le mie vai Alessi stronza 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 non è vero no non è vero non è vero non è vero io sono sono come so non lo so io non mi non mi so senti il dubbio che si insinua in lei sono sicura ah no vabbè no sono sicura sensibile e altruista anche troppo anche altruista sì anche troppo sì tu Fede io io non ho un vestito non ne ho più palli di idea tu sei pignolo 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 io so pignolo allora in the sand mamma mia tu sei precisa e ti si Fede tantissimo non so che metterli allora in the sand trixie lunatica il mio segno zodiacale non mi permette di essere costante che segno sei attratti dalla lingua tagliente non mi faccio problemi a dire quello che penso nonostante alcune cose possono scatenare una guerra mamma mia come ti capisco ma sono anche insicura ok poi Thomas lunatico creativo sognatore bello sognatore mi piace sognatore i sognatori ci piacciono nonna simmer coccolosa tranquilla e creativa tutti creativi comunque sì anch'io beh sì sì devo scegliere ah abbiamo un'altra vergine qua eccoci noi siamo circondati dalla vergine innocentrix siamo disperati ragazzi io non trovo lo stesso colore che c'ha ma non importa comunque l'idea la rende anche il fiocchetto questo è giallo ecco non è e non c'ho le ciglia ovviamente anche io barbira infatti è il segno migliore dello zodiaco lo scorpione allora quando sei nata Maggie come è scritto la Maggie e lei com'è lei è solare insomma è sempre 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 incazzata sempre inbrugnita e com'è solare ah 22 novembre tu io il 5 il 5 scusate intensa questi sim provano forti emozioni e sono facili da intrattenere ma anche più difficili da calmare quando sono di cattivo umore sì decisamente intensa Maggie molto intensa ok io in realtà li ho finiti eh io no io mi sto un piccaffa allora Mattia che stress stasera tra cheratinocidi melano oddio ma in italiano questo è epidermi epidermi te lo so leggere le altre due no sorry è troppo difficile allora lui per la community è molto importante perché ci aiuterà a non invecchiare esatto sì perché e mo' io che faccio eh niente ma che ore so io insomma eh vabbè ci siamo quasi sono le 11 allora Tattino no scusate ci ho ripensato io sono Barney l'amico di Omer che sta sempre al bar con la birra in mano e fa i ruttini io e te anime gemelle praticamente Tattino guarda cioè stai insieme a con la birretta a mano oddio dove sta dove sta quella lampada noi stiamo da bo noi abbiamo il posto fisso da bo carina Maggie vero Maggie è un amore Maggie è fantastico allora e faccio il gatto che è il gatto quello nero c'ha il gatto nero e poi c'ha il piccolo aiutante piccolo aiutante di Babbo Natale il gatto nero mi mandi la foto del gatto del gatto nero sì perché non so se è più così dove sta mi sono perso la foto allora gatto Simpson gatto Simpson che me lo ricordo è tutto spelacchiato è tutto spelacchiato con gli occhi verdi e nero aspetta allora carina che ti sto tutte e due questo che cos'è madonna raga comunque io certe volte mi sento un po' tipo grattachecca e fighetto oddio ecco ok così cosa c'aveva accanto tipo delle casse oddio ma sei brutto quel gatto allora aspetta aspetta no queste vanno bene queste queste marroni ce stanno però questo ce sta nero allora queste simulano le casse queste simulano le casse buonanotte Marisol notte Marisol buonanotte e questo no però questo manco mi fa appoggiare sto coso qua sopra lo odio allora mi serve tipo tavolinetto basso palla di neve numero sì è vero perché mi pare che nel corso della serie non sia sempre lo stesso no perché non ci sa proprio fare Lisa con i gatti palla di neve palla di neve 1 palla di neve 2 palla di neve 3 ecco perfetto poi mi serve allora aspettate ah qua sotto però per esempio qua sta la differenza tra i simpson e i griffin perché praticamente piccolo aiutante di babbo natale è stato salvato da un allevamento e dalle corse sì ma infatti quello che dico io allora nelle prime stagioni erano un po' più ti ripeto più politicamente non politicamente corretto adesso invece sono un po' più come ti posso dire loro so alla fine c'è sempre il buon il lieto fine c'è sempre la morale alla fine esatto c'è la morale c'è il lieto fine quindi comunque e infatti è quello che dicevamo prima no la differenza tra i simpson e i griffin sta proprio qua che i griffin tanto mo se può di una parola accetta cioè peter griffin è proprio stronzo sì a voglia cioè quello che fa lo fa con cattiveria anche verso i figli gli scherzi che lui fa ai figli sono fatti con cattiveria io invece ragazzi c'è una cosa che io amo follemente scusate quando si dondola no ma è così è come si chiama una serie che si chiama American Dead io la amo follemente ah beh vabbè American Dead scusate lo so che pure quella non è che sia proprio no però vabbè quella veramente è l'America è raccontata proprio bene ovviamente più di così non riesco io è carinissimo io regalo ci sto a provare pure io questo come si chiama è palla di neve quello è palla di neve poi c'è il piccolo aiutante del babbo natale allora com'è palla di neve è carino no capito no come è carino sì quello ho capito no non si vede tanto litiga sempre con un piccolo aiutante quindi boh non lo so spirito libero allora meser sta sempre a casa da quello che si vede forse pigro pigra ok i griffin sono anche femmina è femmina ok perfetto quindi i griffin sono più espliciti espliciti e satirici sì che che altro c'è che dice qualcosa in chat no che tratti mettiamo a palla di neve numero dopo palla di neve numero c'è tre tratti degli animali e questo lo togliamo lavatrice asciugatrice ok sì mi servono singoli però ok questo e lei comunque litigava non c'è niente però che territoriale forse cacciatrice 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 c'è no predatrice predatrice è quello predra scusa predatrice perché quando ero piccina prendevo una preta due prete e le le lanciavo nel mare una preta due prete vabbè poi dopo mi metto non lo so e poi quella aspetta quella è palla di neve hai fatto adesso giusto sì io boh dovresti fare il piccolo aiutante del babbo natale sì però si mette i tratti ah si mette i tratti non avevo capito pensavo che è proprio finito lo cuace no non parlo cioè non è una che miagola tanto curiosa oddio non può non rompicoglioni però vabbè allora metti dice che miagola lo cuace allora facciamo un altro animale che è un cane è un levriero tipo sì è un levriero sì 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 è un levriero è un levriero aspetta ratte certo una ratta dov'è la cesta coi panni perché è un levriero quale no afgano no quello è un levriero italiano quello secco 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 che corre piccolo levriero italiano questo eccolo eh sì sì oddio ragazzi secco secco devi essere che carino però è uguale e poi è marrone marrone color caramello tipo sì anche se nel cartone è più arancio che così così sì tipo colore questo sì allora ovviamente questa no ecco così bello patatone dove sta aspetta vabbè che carino ecco lui per esempio mi fa tantissima tenerezza lui è proprio un cane buono poi poi mi ricordo poi mi ricordo che in una puntata io sono rimasta tipo malissimo perché gliel'hanno portato via sì quello là se l'era venuta riprende sì tipo e oddio raga dove sta il coso la cesta dei panni non c'ha nemmeno il collare lui è così e basta praticamente è così eccola io la vedo la cesta dei panni l'ho vista sto un po' in ritardo ma l'ho vista allora aspettato dov'è allora lui non è irritabile lui è buono vero lui è buono sì sì lui è buono lui è buonissimo fedele e ghiottone perché mangia sempre fedele ghiottone e amichevole quindi sì lui è buono è carino la ciotola più grassa di lui amore è bello quanto è carino con questa pancia guardatelo ma perché voi quando create gli animali non gli grattate la pancia col cursore io non li creo mai però quando li creo lo faccio aiuto scusate ho parlato col cane finto è arrivato il cane vero amore è carino oddio molto bene molto molto bene ho fatto amore che carino è arrivato il cane di corsa devo mettere dov'è 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 aspettate dov'è allora lui è piccolo aiutante di babbo natale sì piccolo aiutante eh mi sa che non c'entra affatto come metto la stanza di lisa che colore era dove piccolo simpson scrivo perché se non c'entra ma perché eccola allora io ho fatti eh guarda io i tuoi cani sono gelosi no è che semplicemente ho fatto amore bello e siccome ci chiamo sempre il cane è arrivato che ore sono fatemi vedere che ore so le 23 e 16 allora vabbè io un pochino qui sto cercando qui c'è l'ingresso non so se allora innanzitutto vediamo se da fuori può ricordarla un po' ni un po' poco un poco boh io non vedo la chat mi dite se vede se non non lo so io non aspetta aspettate mi si è bloccato tutto non stanno dicendo niente ok direi di sì fede ok ok meno male almeno questo allora aspettate che tantissimo che gli metto gli metto il letto adesso tanto io sto fermo fammi vedere fede fammi vedere la casa fammi vedere la casa aspetta aspetta faccio vedere faccio vedere che metto metto cucù questo che è viola l'unica cosa che ci posso mettere è questa che carino niente la casa è questa poi la ricorda poi considera che man mano che aggiungi i dettagli si completa il tutto è uguale poi ovviamente qui c'è l'ingresso qui c'è il salotto quello la parte col divano è uguale è identica è qua quella col divano che sta davanti la televisione si si è identica poi c'è la tv enorme la cucina oddio la cucina poi c'è la sala la sala da pranzo questa qua ma guarda che bella è fatta benissimo è bella poi ho scoperto che c'è un altro bagno qui e una stanzetta qui che non sapevo che ho mai vista nel cartone poi vabbè qui ci sarebbe il garage che dovrei finire di fare vabbè vabbè poi c'è il seminterrato che invece è una cosa che si vede spesso che dalle scale voleva fare la lavatrice capito se vede vanno spesso sotto il seminterrato poi poi c'è la doppia altezza delle scale sì poi di qua c'è la stanza di Omer e di Marge che c'è l'armadio qui e poi c'è il bagno sì sì ok poi qua c'è la stanzetta di Maggie sì poi qui c'è un'altra stanza che non sapevo dell'esistenza però va bene ok questa è la stanza di Lisa ma qui dovrei ovviamente finire e questa è la stanza dei Bart madonna qui c'è il bagno che pure questo va finito certo che è figo però dai alla fine alla fine sono venuti bene sì non pensavo allora aspetta pure i sim non sono male però però aspetta li voglio 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 vedere che io non l'ho vista aspetta un attimo allora sì tanto c'è Omer ok allora andiamo qua qui c'è Omer no vabbè lo amo amo follemente è bellissimo amo follemente ma non ci stavano più blu i pantaloni no non ci stanno non ci stanno cazzarola peccato non mi pare e se provi a selezionare il blu proprio come colore l'ho fatto l'ho fatto però no no non te vengono con la scelta capito poi c'è il verde no sì no però è lui è lui sì 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 è lui è lui oddio mio questi anni che fa sembra lui adoro adoro amo follemente Marge Marge è stupenda dai ci sta lei è perfetta eh sì è bellissima è bella è bella poi c'è Bart eh vabbè dai ci sta assolutamente sì carinissimi assolutamente sì sì dai va bene sì 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 no no vabbè amo sto amando follemente no vabbè eh questa è palla di neve e questo è il piccolo aiutante no vabbè è lui è lui è lui è lui poi un gioco sai che dovremmo fare ma è con cc o senza cc brutto pagarospo ciao Ermi buonanotte ciao Ermi notte grazie dicevo casomai poi quando ho finito la casa te la passo e in una tua live fai vedere loro come stanno dentro la casa che secondo me ci sta tantissimo no vabbè sto amando follemente ragazzi sto amando grazie grazie allora io spero che innanzitutto vi sia aspetta allora visto che siamo in dirittura d'arrivo facciamo una cosa è un po' più blu però lui è lui amore è lui questo è il massimo del giallo che c'è nella cosa vero questo è il massimo mi scarico la skin gialla cerco di trovarla la skin esatto perché no io faccio una mini clip cioè faccio un mini video lo metto su tiktok magari sì no dai è stato troppo 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 carina sta sta cosa spero che innanzitutto vi sia piaciuta aspetta che andiamo dall'altra parte Ale andiamo yes alla tv eccoci eccoci allora io spero veramente che vi sia piaciuta questa questa live volevamo fare una cosa un po' diversa volevamo metterci un po' in gioco anche noi stessi sia Ale nel fare i sim sia io nel provare a riprodurre sta casa che veramente è la fiera del colore e vabbè però però allora possiamo fare una cosa se vi è piaciuta magari se avete la possibilità fateci sapere se c'è qualche casa e qualche personaggio che vi piacerebbe che noi rifacessimo in in live magari che ne so possiamo provare a fare appunto American Dead possiamo provare a fare i Griffin possiamo provare a fare si 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 grazie il Bardi Marrabbio di Gismilicia insomma anche 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 si 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 assolutamente il Rugrats non so se ah i Ragrats i Ragrats si si non so che si si io me le ricordo tu tu te ricordi tutto ma come fai secondo me non ricorda un cazzo pure secondo me guarda lei ricorda tutto ma non ricorda niente e ad esempio potremmo provare a fare i puffi i puffi madonna si 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 i Griffin e Lisella e Gilberto si i Griffin e Lisella volentieri volentieri assolutamente sì allora facciamo una cosa domani possiamo fare un sondaggio su Facebook sul gruppo Facebook e facciamo cioè facciamo votare oh Lisella grazie per il follow benvenuta grazie mille grazie di cuore benvenuta grazie possiamo far vedere cioè possiamo chiedere cosa gli piace magari tiriamo giù qualche nome Fede sì 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 cioè nel senso in realtà quello che possiamo fare oppure possiamo fare così se siete per Alessandra se siete d'accordo facciamo così allora facciamo un post in cui vi chiediamo nei commenti i fleastorn gubidù sì sì bello dove vi chiediamo di mettervi tutti i cartoni che insomma voi vorreste vedere e poi man mano li mettiamo in un sondaggio però e i più votati man mano poi nel corso delle serate si faranno secondo me li faremo tutti però sì però iniziamo da quelli magari più votati da quelli più votati assolutamente sì poi se vi è piaciuta questa combi io e Alessandra cioè che mentre combi combinazione combo combo ah combo io combi vabbè uguale scopito sarebbe figo fare la mystery in versione casa sì anche possiamo provarla a fare assolutamente sì carino se peraltro ragazzi fate una cosa se siete anche per i nuovi magari per chi si è iscritto oddio ranzina strega vi ricordo che noi abbiamo anche il gruppo discord il gruppo facebook il gruppo telegram e il gruppo instagram che è sempre ts4i da vita da simmers e basta rimettere e praticamente se riuscite fate una bella cosa magari se riuscite a trovarle anche magari non dico proprio le planimetrie però più immagini possibili in modo che insomma ad esempio io dei simpson oggi ho fatto una grande ricerca esistono anche le planimetrie proprio della casa dei simpson perché poi l'hanno fatta in tutti i modi in maniera ne esiste anche una vera in realtà in america sì esiste quella la riproduzione reale in scala reale della casa dei simpson quindi comunque se poi avete la possibilità mandateci magari ecco le immagini che ne so le foto le planimetrie insomma qualunque cosa in modo che noi abbiamo del materiale sul quale lavorare e poter poi provare a riprodurre ok perché è importante questo perché col materiale noi possiamo provarci intanto dobbiamo provare a fare i cosi i puffi che carini facciamo scegliere loro tanto loro fanno le loro proposte sì 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 magari mettiamo due tre delle nostre capito sì allora noi faremo in questo modo voi ci date tutte le proposte noi le mettiamo e cominciamo mano a mano a farle votare cioè quello che vorreste vedere la prossima volta vince la proposta x perfetto le altre non è che vengono scartate poi le rivotiamo mano a mano in modo da poterle fare tutte ok così non è che diamo la preferenza una all'altra decidete voi quella che volete vedere la volta successiva ok poi piano piano le finiamo tutte quante Alessandra si me li ha già finiti alcuni sono fatti con i cc altri senza ho tutti tutti i cc sono tutti tutti i cc sono un po' un mix sono un po' un mix vero beh ovviamente io ho fatto solo il primo outfit poi magari faccio gli altri si 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 poi magari qualcosina uno se beh ad homera se non sbaglio c'è la tuta quella da lavoro no ce n'è perché lui lavora nella centrale elettrica lo so si e ci dovrebbe essere una tuta tipo una cosa di gas che sai queste tute quelle tutte intere si non salopette proprio la tuta proprio quella intera si si quella ad esempio ecco però allora io per condividere i sim posso tranquillamente farvi tirare fuori la lista dei cc la metto su file award insomma se poi volete scaricarveli ecco vedo si vedo la lista assolutamente io adesso piano piano finisco anche la casa ci metto tutti i dettagli tutto quanto quindi cercherò di fare modo e maniera anche ci devo giocare per fare la casa sull'arbero mi sa vero si altrimenti sapete che ve l'ico ne faccio proprio una io che la piattaforma la faccio direttamente ma non si piace potete giocare ci metti comunque meno che fa gliela costrui guarda quello è poco ma sicuro perché fa gliela costrui ci vanno sei mesi del gioco e così almeno se volete potete scaricarci ci giocate insomma invece divertite quello che vi pare poi possiamo fare anche altre cose dei sim possiamo fare il bar di Bo volendo no quindi possiamo fare il bar di Bo e Alessandra magari può fare Bo e gli altri personaggi se vuoi il poliziotto insomma ce ne stanno dei personaggi nei sim quindi magari potrebbe arrivare quindi una seconda parte eh ragazzi una seconda parte una Newcrest convertita in Smallville in Smallville ma quello è The Superman eh sì quella si chiama quest'altra si chiama questo è Springfield Springfield Ned il bar di Bucci si tantino ci devono fare il nostro bar tranquilla tranquilla noi vogliamo proprio Ned anche la casa di Ned Fland insomma in un modo o nell'altro la facciamo la facciamo assolutamente quindi ci mettiamo lì e facciamo tutto quanto ragazzi insomma l'importante è che vi siate divertiti che vi sia piaciuto e insomma la casa ti posso dire aspetta fatemi fare una cosa più che altro salvala salvo non devi dare che me si chiude il gioco poi giuro mi metto a piagne eccoci qua quindi che dire siamo giunti quindi al termine abbiamo qualcuno in live sì Mariano Mariano possiamo fare un bel ride a Mariano aspetta fallo quanti faccio i saluti ecco allora ragazzi vi ricordo appunto come ho detto prima gruppo discord gruppo facebook gruppo telegram gruppo instagram ts4ita vita da simmers vi ricordo che questa live la potete rivedere direttamente qui su twitch oppure la potete rivedere direttamente su youtube sul mio canale euforpia 1981 sempre su youtube trovate anche i meravigliosi video tutorial eccetera eccetera della sottoscritta aspetta è qua la sottoscritta qui accanto a me della ale hoc dell'ale d'alessandro cello vi ricordo che la nostra alessandro cello vi terrà sempre compagnia dal lunedì al venerdì ovviamente impegni permettendo però interioricamente sempre in live dal lunedì al venerdì dalle dalle quattordici alle sedici sul suo canale questa settimana questa settimana che entrerai c'è realmente anche domenica ventinove ecco vi faccio sapere l'orario perfetto mentre vi ricordo che martedì saremo in live sarò in live poi non so se Ale entra boh non lo so poi mi fai sapere tutto quanto no perché porto una cosa nuova poi vi faccio sapere cosa io faccio tutto da solo però porto una cosa nuova non è The Sims però è una cosa un po' carina a chi piace ve la faccio vedere quindi attendete aspetta poi te lo dico attendete che che vedrete quindi se siete curiosi vi aspettiamo vi aspettiamo in live e vi facciamo sapere il tutto ringraziamo ovviamente la nostra picci piccina picci picciottella picciottata grazie a voi ogni sera aggiunge un picci un picci picciò e beh così ci sta ok bevuto poi ringrazio ovviamente la nostra Ale Ale Wanda Ale Ale Sexy Bomba che come dico sempre lei mi supporta ma soprattutto me sopporta quindi mi raccomando e che altro dire vogliamo andare dal nostro Mariano si ok io nel frattempo ragazzi 8 secondi 7 secondi 6 secondi vi mando un bacio e ci vediamo buonanotte ragazzi buonanotte lascia del pollo martedì 21 e 30 sempre qui su eforbia 1981 niente ed è è è è è partito grazie a tutti grazie a tutti